Gentili telespettatori, buona giornata. La Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è ospite nel programma di Rete 4 di Del Debbio, Dritto e Rovescio. Ovviamente programma di attualità politica, quindi ospite d'onore è proprio la Presidente di Fratelli d'Italia, giovedì 13 di maggio. Partito che sta dando in diversi sondaggi avrebbe superato anche il Partito Democratico. Però non si parla di sondaggi, ma dei temi che sono in cima all'agenda politica, dall'immigrazione al virus, alle riaperture, le chiusure. La prima cosa che dice Giorgia Meloni parla di Enrico Giovannini, il ministro dei trasporti che ha chiesto che i porti restino aperti affinché possano essere appunto accolte tutte le persone in arrivo. Giorgia Meloni dice il ministro dei trasporti Giovannini forse dovrebbe occuparsi dei trasporti, ecco, ma non di altre cose. intanto Giorgia Meloni poi parla anche di altri temi, dice che su quel coprifuoco, quelle chiusure notturne, serali, è una misura liberticida per la quale si batte in primis Roberto Speranza. Questa vicenda, dice, è assolutamente irragionevole, parte in Quarta La Meloni, è una misura illegittima in uno stato democratico e inaccettabile da parte del governo privare le persone della loro libertà. Potevamo accettarlo all'inizio, non sapevamo con cosa ci stavamo confrontando, ma dopo un anno e mezzo e senza sapere che sia arrivato, senza sapere ancora quanto durerà questa emergenza, credo che sia arrivato il momento di interrogarsi seriamente sul bilanciamento di alcuni diritti fondamentali. Abbiamo sicuramente il diritto alla salute, ma abbiamo anche e soprattutto il diritto alla libertà, dice Giorgia Meloni. Beh, insomma, questa cosa della chiusura notturna adesso dovrebbe finire. Ecco, intanto parliamo anche di, ad esempio, delle cartelle esattoriali che vengono rinviate a luglio in due tranche, previsto un saldo di fine anno per i rimborsi. Quindi ristori in due tempi e rinvio delle cartelle fino a fine giugno, con riscossione light. Secondo questi due capisaldi sul quale la maggioranza ha trovato un accordo, in vista del decreto legge sostegni, che il governo dovrebbe varare oggi. Il presidente del Consiglio Draghi e il titolare del tesoro Franco, si sono riuniti ieri con i ministri capi delegazione dei partiti e hanno concordato alcuni punti. Sui ristori ha prevalso la linea della Lega e di Forza Italia. I rimborsi saranno erogati in due tempi. Un contributo a fondo perduto in automatico per imprese e partite IVA già indemnizzate dal primo decreto legge sostegni, con i medesimi parametri di calo di fatturato. È un saldo a fine anno in base al ricalcolo delle partite e delle perdite su dati dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi. In quest'ultimo caso si terrà conto anche della flessione degli utili. Fonti di maggioranza hanno inoltre fatto sapere che sarà introdotto un nuovo slittamento dei termini per la ripresa della riscossione. L'invio delle cartelle fiscali e dei pagamenti dei debiti dovrebbe essere rinviato di due mesi, quindi fino a fine giugno. Al termine della proroga si dovrebbe introdurre, come anticipato da tempo, un sistema light della riscossione, cioè in rate, non possiamo dire comode, ma in rate di 10 anni per chi ha avuto grandi perdite, oltre il 30% del fetturato nei periodi della pandemia. Forza Italia in particolare ha proposto l'erogazione automatica del 200% di quanto ricevuto con il primo decreto leggi sostegni, cioè il doppio. Ecco, se nel primo decreto sostegni si è avuto 100, adesso 200, se si è avuto 1.000, 2.000, quindi un raddoppio di questi sostegni. Forza Italia ha poi proposto di stanziare altri 200 milioni per il fondo wedding eventi privati, cioè matrimoni eventi privati, 100 milioni per le scuole paritarie. Il PD si è concentrato sulle misure per l'occupazione vista la scadenza a fine giugno del blocco dei licenziamenti generalizzati. E proprio sul tema della liquidità alle imprese, ieri il Governo ha ricevuto una forte sollecitazione da parte delle principali associazioni datoriali italiane, tra le quali ABI, Alleanza delle Cooperative, Col Diretti, Conf Agricoltura, Conf Appi, Conf Artigianato, Conf Commercio, Conf Edilizia, Conf Esercenti e Conf Industria. Con una lettera inviata alle istituzioni si è voluto mettere in evidenza la necessità di emanare un decreto legge sostegni bis di semplice applicazione, con misure immediatamente operative. Tra le richieste è la proroga delle moratorie sui prestiti almeno fino al 2021, più lungo per i settori in crisi, e dei finanziamenti garantiti dallo Stato. Per quelli già in essere si chiede che la durata venga significativamente prolungata ad almeno dieci anni, anche modificando le regole attuali. Ultimo ma non meno importante si chiede la facilitazione delle rinegoziazioni del debito attraverso il fondo di garanzia per le PMI, SACE e ISMEA. Secondo le stime del Centro Sud, del Centro Studi di Conf Industria, allungando il periodo di rimborso dei finanziamenti garantiti da sei a dieci anni, le imprese disporrebbero di risorse per realizzare 6,8 miliardi di investimenti in più all'anno. L'impatto sul PIL, affermano gli analisti dell'associazione guidata da Carlo Bonomi sarebbe pari a più 0,3% nel 2021 e più 0,2% nel 2022. Abbiamo bisogno di risposte ora e non possiamo aspettare oltre, ha chiesto Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per la finanza e il credito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Nella community trovate dei sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo poi anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube Teleitalia Seconda Rete. Mentre c'è anche al singolare l'abbonamento al canale che con 99 centesimi al mese, un euro, potete vedere di media un video in più al giorno dedicato solo a chi ha questo abbonamento. Vi ringrazio nuovamente, se volete tra una ventina di minuti per un altro video qua sul canale. Ci possiamo rivedere. Arrivederci e buon proseguimento di giornata. Grazie.